Stetemmar pronto per effettuare il servizio 5-4 Lube in questo primo set a tutto braccio su Osmani Dececo dietro per Riklitsky c'è la difesa di Pesaresi sulla parallela di Riklitsky Ishikawa sulle mani del muro della Lube piano anche ancora Ishikawa ci arrivano non riescono poi a perfezionare la difesa della Lube 4 tocchi 4 tocchi poi il secondo Boris l'aveva segnalato a Poecker era il primo ma forse Poecker era coperto e non è riuscito a vederlo ha fischiato con un po' di ritardo 15-9 Lube che ora riceve il servizio di Ishikawa molto bene su Osmani Dececo la rigioca in qualche era Osmani e il primo tempo di Milano è di Vicente Cosa Mernic al... Poecker non ha visto il diciamo il palleggio di Luciano che non era sicuramente palleggio pulitissimo vince la contesa a rete Luciano Dececo ora la riceve a Terramar attacca Cosa Mernic 28 e rientra anche Yuki Ishikawa Piazza su Leal deve palleggiare Laos per Riklischi tiene piano in qualche maniera Patria può solo appoggiare poi Riklischi è un mezzo attacco quello di Riklischi si gioca ancora Leal lo tiene Patria Leal in ricostruzione le mani di Matteo Piano a fermare il tentativo di attacco di Giovanni Leal se ne va anche il secondo set ball per La Lube Sì queste sono comunque palle diciamo azioni che ti danno morale perché una fucilata di Simon ricezione eh diciamo quello che deve fare Miserisi adesso non prendere Ace palla alta attacco sulle mani Os cerca Ishikawa Sberturi va da Patria paralela disegnata in maniera meravigliosa dall'opposto francese allora Qualeal si abbassa si arrabbia con Balaso in maniera piuttosto evidente e chiede ad un libero 43 bari l'attattica a Muro di Milano è stata bella perché Mar ha preso in consegna a De Cecco mentre Cosa Mernic era su Simon e ora Mar il Muro viene molto vicino al laterale davanti alla nostra postazione e poi cantiamo dice vediamoci chiaro i principali palla in campo si poi si aveva risultato poi però è rimasto dritto la mano ad accusare il tocco a muro bravo Os Milano più due la forza Cosa Mernic sulle al palla che schizza nel campo meneghino primo Sberturi piano Milano pian piano se ne sta andando un po' di imprecisione dei ragazzi della Lube con battute non irresistibili anche farci perdonare l'errore di prima Riccardo Sberturi di ace su Ioan di Leal e per De Giorgi ora passati del fischio dell'aritro credevo fosse il temato invece no non chiama il temato prima ace per Sberturi due tre di Sionis ora arriva il diciamo che Sberturi ha preso due battute forti precise con poca rotazione quindi Matteo Piano va di là in zona uno di là rispetto alla nostra postazione come avevamo visto davanti a noi Matteo Piano su Os De Cecco vuole lo tiene Shikawa Patry completamente dimenticato dalle alla Patry ha passato contro vincente contro sorpasso di Milano non solo ha raggiunto la Lube Milano ma ora 19-18 Matteo Piano non solo la Lube la Lube